Sono passate 18 anni da quel tragico 18 marzo del 2005, quando un Canadair impegnato in un'operazione di spegnimento di un incendio scoppiato sul Monte Ripa nel comune di Seravezza, urtò i fili dell'alta tensione e si schiantò in un cantiere edile al centro di Vittoria Puana. Nell'impatto persero la vita i due piloti del veivolo, Stefano Bandini, 38enne di Teramo, e Claudio Rossetti, 44enne di Siena, che riuscirono ad evitare di precipitare sopra l'ospedale San Camillo, salvando centinaia di vite a scapito delle proprie, sacrificio che valse loro la medaglia d'oro al valore civile da parte dell'allora Presidente della Repubblica, Carla Zerio Ciampi. Per ricordare quei tragici fatti e la riconoscenza delle comunità di Forte dei Marmi di Seravezza e due eroi, si è tenuta la commemorazione di fronte al monumento di piazza Henry Moore, a cui hanno preso parte i Presidenti dei Consigli Comunali delle due amministrazioni, oltre alla madre di Claudio Rossetti e i piloti del gruppo Volo Canadair presenti ogni anno alla cerimonia. L'evento è stato anche l'occasione per i rappresentanti delle due amministrazioni di ricordare quanto, in vista del periodo estivo, siano pericolose le inosservanze delle norme antincendio e quanto pericoloso sia dover intervenire sui roghi che ogni estate colpiscono i territori della Versilia.